Buonasera a tutti i criptomalati, ben trovati qui, sono 7.38 di oggi giovedì mi sembra ragazzi, siamo già a 3 febbraio. Insomma, qui con Fabrizio Ferri, il vostro analista tecnico, oggi vediamo insieme un po' di grafici, partiamo con quante, perché in questi giorni ha fatto delle ottime performance, ma queste performance non vanno ad inficiare quello che è comunque un trend ribassista di breve, medio periodo, diciamo medio abbondante. Per quello che riguarda queste mie analisi sono completamente da non inserire tra i vari consigli finanziari, questi non sono consigli finanziari, ma sono semplicemente proprio degli approcci tecnici e didattici per capire un po' quello che sta succedendo sui mercati. Dicevo insomma, quant momentaneamente ancora ribassista sul breve periodo, diciamo sul medio periodo, perché poi sul breve ha fatto questo ribalzino, che però va ancora messo agli atti che ci si trova in una fase particolarmente negativa. Per quello che riguarda appunto l'ottica un po' più lunga. Andiamo subito su Bitcoin, eccolo qua, Bitcoin che l'altro giorno sembrava voler tentare la gestione al livello del 38.700, ci prova, praticamente lo raggiunge nuovamente, ma non riesce a violarlo. Quindi aspettiamo un pochino prima di dire che il mercato ovviamente stia invertendo, un mercato che oggettivamente però sta ancora in questa fase, perciò un blocco che similarmente a ciò che abbiamo visto qualche mese fa, potrebbe anche addirittura offrirci qualche straordinaria sorpresa. Però momentaneamente ragazzi il trend rimane a tutti gli effetti ancora ribassista, quindi nulla da aggiungere su Bitcoin, che potrebbe addirittura scendere ancora un po' di più o comunque mantenersi in questa zona di congestione. Comunque di base ribassista. Andiamo a vedere poi Ethereum. Ethereum eccolo qui. Aveva fatto anche Ethereum delle buone performance in termini di rimbalzo. Va a toccare i 2007, ora torna a 2005. Questo rettangolo era un'area che ho misi tempo fa, non è un rettangolo di congestione. Perciò non affidati per questo pullback, se poi magari dovesse reggere sarebbe comunque una cosa, una piacevole coincidenza, ma momentaneamente non è proprio questa ancora la coincidenza che ci aspettiamo. Ci vorremmo avere un qualcosina in più per dire che siamo fuori pericolo dal trend ribassista che è ancora fortemente in atto. Andiamo a vedere poi FTT, il token di FTX. Eccolo qua. Ha fatto delle buone performance, ha fatto degli storni importanti. Nuovamente va a toccare questa zona qui e fa fatica a superare. Diciamo che questa per me è la chiave di volta, no? Di questa cripto che momentaneamente comunque sta con gestione, perché sono 20 mesi ormai che si trovano acquistando. Il 12 dicembre, siamo a febbraio, ci sono quasi due mesi di blocco fra i massimi in zona 47 e i minimi in zona 33 e 32 dollari. In grosso modo. Momentaneamente insomma il mercato sta proseguendo sul breve e oggettivamente è ancora rialzista. Non voglio dire cavolate, secondo me c'è ancora da vedere questa dinamica qui. Aspettate un attimo, me l'ha rimpicciolita. Eccola qua, ve la faccio vedere proprio al volo. Questa dinamica che per me non va trascurata, però oggettivamente c'è tanto da dire e tanto da fare, perché fin quando non arriverà sopra i 48, secondo me siamo ancora appunto incastrati in un trend non proprio direzionale. Andiamo a vederci Solana che ha fatto delle buone performance. Anche questa cripto vedete che ha mosso l'altro giorno, diciamo anche durante la live, una buona spenta fino a 113. Ora torniamo a 97 e vediamo se riuscirà a mettere in fila una configurazione interessante per poter ripartire. Momentaneamente non c'è proprio tutta questa positività da parte di Solana, perché comunque eccolo qua il trend, mi sembra oggettivamente ancora orientato a ribasso. Questo è quanto ragazzi. Andiamo a vederci insieme Luna, per chi ancora è alla finestra e volesse approfittare di eventuali storne e ribassi, perché giustamente poi sull'ottica del lunghissimo periodo Luna comunque secondo me potrebbe offrire delle ottime performance. Siamo su dei ribassi importanti, quindi allora è ovvio che un po' la paura entra nella testa di chi magari ha investito, ha fatto acquisti in zona alta, tipo 85-90 dollari. Però ecco, vediamola così, l'ottica sul breve rimane ribassista, però sul lunghissimo secondo me non viene proprio affatto scaltire, quindi occhi aperti su Luna che potrebbe generare qualche buona opportunità, sempre in chiave di investimento. Ovviamente ragazzi, valutate bene il vostro money management prima di mettere soldi sul mercato. Volevo vedere ADA, perché l'ho da poco analizzata, eccola qua. Di nuovo va a sbattere su questo supportone, sapete che il dollaro è la mia quota preferita, anche qua vedete che praticamente tiene sia il supporto statico che il dinamico, ovviamente questa trendline rialzista è un pochino forzata, perché poi a parte queste ombre di minimo non c'è oggettivamente un trend rialzista, però il supporto potrebbe dire la sua e momentaneamente sta ancora tenendo botta, quindi il dollaro è molto forte, ovviamente siamo verticalmente ribassisti, però dovesse esserci un ribassino vorrebbe essere interessante cavalcarlo. Voglio mostrarvi qualche cane coin, vediamo un attimo Shiba che dice, ho letto, ho sentito dire da uno di voi che c'è stata una bella linea che ha fatto un investimento importante in termini di Shiba, oggettivamente in questo momento non ci sono riscontri che attestino volumi importanti su Shiba, perciò ecco sinceramente non mandrei a sbilanciare troppo, allora Shiba secondo me è poi la mia idea che lascia un po' il tempo che trova se volete, però ecco va vista oggettivamente come una scommessa, cioè secondo me Shiba non va inserita in un percorso di investimento, ma va vista proprio come se fosse una scommessa, perciò pochi dollari o quello che uno decide di dedicargli e in ottica anche pluriennale, senza pensarci troppo, non stare qui davanti a fasciarsi la testa ogni volta che scende o a strappare il champagne ogni volta che sale, a meno che però quella salita non sia consistente, e ci faccio ovviamente piacere. Detto questo vi mostro un'altra cripto, volevo vedere Rippola che ha tanti interessi, spesso me lo scrivete anche nei commenti, io non sono ripoliano però diciamo che la zona degli 0,58 sembra tenere botta, ormai stiamo qui solo da diverse giornate, vediamo se avrà sufficiente forza per ripartire, ci sono un po' di volumetti qua messi ecco sul livello, qualcosa che non è accaduta per esempio precedentemente, il mercato comunque ha perso un bel po', parliamo di un ulteriore, io feci quel trade che poi andò poco bene, dove persi più o meno il 3-4%, quindi è una relazione gestibilissima, e poi abbiamo perso un alto 30%, quindi vedete che poi quando il mercato scende, scende sempre con l'ascensore, quindi mi raccomando non trascurate mai questi luoghi comuni, questi detti della finanza, perché purtroppo funzionano sempre, che si sacca con l'ascensore è storia nota, che si scenda con le scale è storia nota, che si scenda con l'ascensore, lo è altrettanto se non di più. Chiudo l'analisi di oggi, con ICP è tanto tempo che non l'analizzo, perché l'ho vista ieri sembrava avesse avuto un certo sussulto, infatti il sussulto c'è stato, però ecco qua il canale ribassista a tutti gli effetti ragazzi, si tocca di nuovo la base del canale, ma veramente lo tocca perfettamente, era un po' di tempo che non avevo visto questo grafico, e ci lavora alla grande su questa base, molto interessante, molto interessante, va sempre ovviamente letto per quello che è, un mercato ribassista in un canale ribassista, però è vero pure che siamo su una base del canale ribassista, quindi essendo questa la base, potrebbe offrire qualche spunto interessante, di eventuale rimbalzo, e magari portare, non dico a un recupero chissà di quanto, però ecco già a rivedere, per esempio il CP intorno ai 24-25 dollari, potrebbe essere assolutamente, diciamo così, non poco realistico, secondo me ci sono buone possibilità che possiate, che possiamo rincontrare di nuovo un CP su quella zona, poi vediamo un po' se avrà forza per rimettersi in corsa, corsa che momentaneamente sembra oggettivamente bloccata, ragazzi detto questo, io con una buona serata, ci vediamo domani sera, che domani è venerdì mi sembra, domani sera 4 febbraio alle 19 in diretta, perché ci divertiamo insieme a fare un po' di analisi, vediamo che sta combinando come sempre il bitcoin, cercheremo di capire le vostre cripto preferite, e come leggere il mercato, per ultima cosa vi ricordo di andarvi a iscrivere, al corso gratuito di bitcoin, su bitcoin, trading, analisi tecnica, con in più, un ebook in pdf, completamente gratuito, che ho fatto per voi da scaricarvi, ovviamente sono elementi basilari, per approcciare a questo mondo, a presto da Fabrizio Ferri e da Malati per le cripto.